Non sono in gioco solo le sorti dei 54 dipendenti ASIDEP, sono a rischio migliaia di posti di lavoro perché se le aziende non sono in grado di lavorare, possono perdere commesse e clienti e risulterà seriamente compromesso il futuro stesso delle nostre aree industriali. E questa la preoccupazione del presidente di Confindustria Vellino, che ha scritto una lettera al governatore De Luca. La mancanza del servizio di depurazione rischia di provocare sversamenti con conseguenti danni dal punto di vista ambientale e sanitario e di conseguenza i sindaci potrebbero essere costretti a breve a emettere ordinanze di chiusura delle aziende, scrive Emilio De Vizia, sottolineando non siamo in grado di spiegare alle nostre aziende associate che hanno regolarmente pagato le fatture per il servizio di depurazione all'ASI e stanno continuando a farlo perché il servizio non viene svolto e perché i dipendenti ASIDEP mantino mensilità arretrate. Intanto, lavoratori e sindacati che si sono riuniti questa mattina valutano le iniziative da intraprendere a partire da domani quando siamo al decimo giorno di sciopero e nulla fino a questo momento si è mosso. Il presidente dell'ASI mira ad assegnare il servizio di depurazione per tre mesi ad una delle società che hanno partecipato alla manifestazione di interesse e spera nelle prossime ore di poter pagare lo stipendio di novembre ai lavoratori ASIDEP ma al punto in cui siamo è impensabile portare avanti questa situazione per altre due settimane. Le condizioni del depuratore di Contrada Porrara, Sant'Angelo dei Lombardi, sono allarmanti le basche hanno cominciato a trascimare.